bella a tutti ragazzi prima di andare a vedere il video voglio ricordarvi il mio codice creator xyuderone grazie mille per il vostro supporto attenzione ogni 14 giorni scade quindi non dimenticatevi di controllare se ce l'avete e ovviamente mandatemi una storia su instagram uno screen quello che volete io vi reposterò ma adesso video vai superman let's go vai superman purtroppo a difficoltà a difficoltà a difficoltà andiamo allora vediamo se riusciamo a fare qualcosa di interessante andiamo attenzione con calma questa è quella buona questa è quella buona dai ragazzi questa è quella buona davvero andrei subito subito a farmi il farmi il veicolo subito ragazzi che il camion slurp davanti di apertura è clean è clean è clean siamo in solo v2 cerco di trovare qualsiasi modo per evitare che gli snappi entrino nelle partite quindi le rovinino le rovinino con spider man non si può perdere ragazzi a parte che è superman però ok praticamente lo sento già lo sento già comunque sono belli ingasellati stamattina io ce la metto tutta ma sono belli belli ingasellati avanziamo non ci farebbe schifo ovviamente trovare un bel tac spider pork spider pork il soffietto tu mi sporc tu mi bali sulla test e mi macchi tu tu rest l'ho visto il cinema io il film dei simpson tanti anni fa quando è uscito era così il cinema ragazzi ma non era mai tanto pieno quando quanto i film di aldo giovanni e giacomo andiamo ma quanta gente c'era nel cinema ragazzi non avete idea andiamo e che c***o e f***a il mostro di Loch Ness uah sei matto a farmi questi aquati andiamo e che saranno ci sono panini e birrete minchia togli me lo da davanti alla vista45 che gli sparo togli me lo viewedo davanti alla macchia che gli sparo, no vabbè fa troppo ridere raga, del 97 andiamo maaaaa no Aldo Giovanni e Giacomo rimarranno nella storia italiana forever, troppo bravi troppo bravi, troppo divertenti, troppo divertenti, non c'è storia io le prime volte che guardavo Aldo Giovanni e Giacomo impisciavo dalle risate mi pisciavo dalle risate è un 1v2, la vedo brutta eh Giovanni indietreggio io un attimo non sono due idioti ma non sono neanche fortissimi secondo me, con calma, con calma, con calma il solo v2 è abbastanza impegnativo andiamo, andiamo, andiamo ciao ragazzi, vai, vai, vai vai, 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 maaa ti piacerebbe sai farti una skybase mi spiace, da, mica si vede troppo la skybase raga è troppo, è impossibile fare una skybase non può essersi salvato non può essersi salvato ma che c***o di skybase è da lì e gli è andata bene che si sono salvati per il buco del c***o si sono salvati adesso gli entro vieni qua, pirla, dammi la taglia mi spiace con calma, con calma, con calma non so se riesco ad affrontare un un solo v2 non credo siamo in troppi e questa posizione è troppo pericolosa siamo in 8 e questa posizione è troppo pericolosa ragazzi sto pensando devo riuscire a fargli lo sneaky sta pushando, sta pushando loro si pushano un po' più veloce a laserarlo una rotation da dietro se rimangono concentrati di là ce la faccio sembra che stia entrando questa rotation ma siamo ancora in 8 7 non so se riuscire a fargli non è stata una grande idea sono che sono qua non so se riuscire a fargli Andiamo! Andiamo!